Con l'ultimo Perché l'ultimo non si deve stare vestiti Vedete anche le scuole gialle Mettete agli specchi le scuole gialle All'azienda iniziali Le scuole gialle del piedi Velocemente Velocemente Tenete i pantoni Non parlate Pazzago per la parma Questo è un po' più grosso Allora noi siamo più giusti Prendiamo un pochino Prendiamo Lei Con L'ultimo Saluto Vai Il più tecnico Prendiamo Il più Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.